Quando c'è un pericolo per il paese c'è una chiamata, quando il pericolo è grande c'è una grande chiamata, questa specie di chiamata alle armi. E' un mito! Era chiarissimo che entrando in politica avrebbe confuso i suoi interessi privati con quelli pubblici anche perché questa fu la sua intenzione dichiarata, dichiarata a me perché mi disse io debbo andare a difendere i miei interessi.